Salve ragazze, eccoci con un nuovo video. Sono rientrata dalle ferie ai primi di settembre e oggi inizio con una serie di nuovi video. Intanto con l'appuntamento consueto dei prodotti terminati, perché effettivamente ce ne ho davvero tanti. Ecco qui nella sportina della Wind e li pescherò a random. Una premessa, nel video precedente vi avevo appunto detto di questo mio nuovo progetto riguardante l'utilizzo di prodotti un po' più sani, cioè comunque senza parabeni, senza petrolati. Chiaramente qui vedrete ancora dei prodotti diciamo non proprio tra virgolette sani, nel senso che comunque ce li avevo, dovevo smaltirli e quindi insomma ho continuato a utilizzarli. Bene, allora partiamo subito. Intanto poggiamo sotto il sacchetto. Ho terminato questa crema, adesso io non so se metterà fuoco, della Neutrogena per pelli secche. L'avevate già vista nei miei video, l'avevo acquistata in farmacia, il costo circa 10 euro e l'ho utilizzata molto anche proprio al mio rientro dalle vacanze. Infatti l'ho appena terminata, perché comunque è una crema molto corposa, molto idratante ed effettivamente è molto buona. Per quel che riguarda l'inci è chiaro che non è una crema bio e vabbè, comunque insomma ce l'avevo e l'ho terminata. Ho poi terminato e ho fatto anche un po' fatica, questa crema Fior di Magnolia, crema soft corpo e mani con olio di argan, acquistata all'Eurospin. Un barattolone, 250 ml, pochi euro, una buonissima profumazione. Devo dire che era un po' che ce l'avevo aperta e quindi insomma avevo capito che si stava un po' deteriorando, quindi ho cercato di finirla alla svelta. Ho poi terminato questo bagno schiuma, shower gel dell'Argital, questo sì che è praticamente bio, bagno doccia, ecco qui c'è scritto in italiano, rilassante alla melissa, cosmetici naturali senza conservanti. Sì, non era proprio il massimo, però l'ho terminato e questo sì effettivamente è un prodotto bio. Ho poi terminato per i capelli e questo l'ho usato anche in vacanza, l'avevo acquistato dalla mia parrucchiera della linea Palco Professional, quest'oil non oil. L'ho terminato, una buonissima profumazione, però insomma comunque un prodotto molto siliconico. Terminato anche l'acqua micellare detergente della Garnier, maxi formato, 400 ml, senza profumo, senza parabeni, infatti questa se capita la ricomprerò. Adesso sto usando quella della Yves Rocher, perché c'era una promozione, l'avevo acquistata al mare, in un centro commerciale, adesso sto acquistando quella. E non vi so dire se poi effettivamente è senza parabeni, com'è, questo non ve lo so dire. Questa della Garnier comunque è senza parabeni. Quindi diciamo, ok, un prodotto che può andar bene. Ho poi terminato questo bagnoschiuma rinfrescante della Bade Das Oxygen Classic, con bolle d'ossigeno, senza infame e senza lode, comunque estivo, rinfrescante, ce l'avevo nella borsa della spiaggia. Ho terminato anche questo shampoo ultra dolce all'olio di avocado e burro di karité, questo lo riacquisto sempre, agli estratti naturali, anche questo senza parabeni, quindi insomma è uno shampoo che può andare per il mio nuovo progetto. Ho terminato poi della Marvis questo dentifricio, la profumazione è eccezionale. A me piacciono molto questi dentifrici, sono molto freschi, molto buoni. Adesso ne sto usando uno della Colgate, mi pare, vabbè, perché non avevo fatto in tempo a riacquistarlo, comunque fa parte di uno dei prodotti che utilizzo sempre. Adesso il prossimo vorrei prendere quello alla cannella, che mi piace tanto. Terminato anche della Rimmel in leva smalto. Rinforzante, vabbè, questo quando lo trovo lo acquisto sempre. Terminate queste lamezze, rasoi, ecco, anche questi mi piacciono molto. Bilama per pelli delicate, penso di averli presi da tigotà. I dischetti, come al solito, non possono mai mancare. Poi ho terminato questa matita della Wicon. È già la seconda che termino di questo marrone intenso, mi piace molto. Scusate. Fa parte delle matite della Wicon, la serie delle long lasting. Io l'acquisto sempre. È una matita che mi piace molto. Terminato bagnoschiuma della Vivre Rocher, senza parabeni. Quindi anche questo va benissimo per il mio progetto. Alla Macadamia, le noci di Macadamia. Questa ha una buonissima profumazione. L'avevo acquistato al mare. Tra l'altro erano in offerta i tre bagnoschiuma al solito costo di 5 euro. Quindi li ho prese. Adesso ne sto terminando un altro. Ho anche terminato come bagnoschiuma, sempre all'olio di Macadamia, questo dell'Angelica. Bagnolate per il corpo. Ecco, anche questo non contiene parabeni, paraffina, senza silicone e senza OGM. Ecco, quindi questo farà parte, è uno di quei prodotti appunto, non voglio ripetermi, che però potrò utilizzare. Una profumazione buonissima, l'ho usata in vacanza. Mi piaceva davvero tantissimo. E quindi lo riacquisterò. Tra l'altro a un prezzo stracciato, perché penso che in offerta di averlo pagato 2 euro. Quindi insomma, voglio dire... Terminato anche questo sapone liquido. Al burro di karité. Mani e viso. La corte dei segreti. Quindi questo non so se, com'è e com'è diciamo l'inci. Però insomma, come profumazione era molto buono e l'ho terminato. Terminato anche questo gel doccia della Yves Rocher. Questo apparteneva a una serie vecchia. E qui non so se questo è senza paraveni. Questo non ve lo so dire. Comunque questo è in gel. Buona profumazione, fresca. L'avevo acquistato tempo addietro. Comunque l'ho usato quest'estate. Poi ho terminato il mio doposole preferito. Il latte idratante calmante. È della Ekran. Anche questo è senza parabeni. Quindi va benissimo. Ce ne ho un altro boccetto. E conto, diciamo, di utilizzarlo come crema corpo. Adesso non so se... Perché il boccetto è intero. Se lo utilizzerò adesso. Oppure magari lo conservo per l'estate prossima. Perché comunque ho altre creme corpo. E quindi vedo magari di finire le altre. L'avevo appena iniziato. L'ho usato uno o due volte. La confezione nuova. Comunque mi è durato per tutta l'estate. È eccezionale. E poi è senza parabeni. Quindi ok. Anche per questo. E ultima cosa. Cestino. Questa terra della pupa. In quanto è tantissimo che ce l'ho. E si è ossidata. Vedete? È diventata bruttissima. Quindi io la cestino. Benissimo ragazze. Io vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione. Arriveranno tanti altri video. Seguitemi. Chiaramente se vi fa piacere. Io vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao.